buongiorno e benvenuti e benvenute alla video guida del vostro nuovo sito di club per accedere al back end del sito di club dovete recarvi all'indirizzo che vi sarà stato comunicato via email e a quel punto potete fare il login io uso il nome utente che è la password che vi sarà stato comunicato e poi la password la potrete eventualmente cambiare facciamo il login stiamo usando il sito del Rotary Club Pallanza Stresa a titolo illustrativo e partiamo dal front end da quello che tutti vedono del vostro sito internet allora vedete c'è il logo del club c'è un menu uguale per tutti i club qui può differire la presenza o meno di icone social c'è uno slideshow che in alcuni casi sarà costituito di un'unica immagine invece qua abbiamo uno slideshow vero e proprio con 4-5 immagini che scorrono sotto c'è una parte dedicata alle informazioni pratiche dove sono state inserite le riunioni settimanali quando e dove in questo caso ci sono più luoghi a seconda delle stagioni e c'è una parte che adesso non è attiva perché stiamo lavorando su un sito di prova per quei club che hanno l'abbonamento a club communicator pro e possono avere un feed in tempo reale delle prossime riunioni a destra c'è invece un una colonna dedicata ai link utili in questo caso ma i Rotary Club communicator e la pagina Facebook in altri casi potrà essere un po' diversa comunque questa parte qua in qualche misura la potete cambiare anche voi al di sotto ci sono le ultime notizie e gli ultimi gli ultimi articoli pubblicati quindi le ultime le ultime notizie e gli ultimi servizi arriviamo e qui compaiono in un page automaticamente e arriviamo quindi al footer questa parte qua non su questa parte qua voi non potete intervenire la cambieremo noi ogni anno a seconda di quelli che saranno i loghi da da inserire il logo internazionale logo del distretto 2031 2032 e anche qui nel caso in cui dovesse cambiare l'indirizzo del club poi abbiamo una pagina che non dovrebbe subire variazioni che quella dedicata al Rotary l'organizzazione mondiale la storia l'intervento eccetera eccetera e poi c'è la pagina dedicata al club la pagina dedicata al club costa di una prima parte sui cenni storici c'è l'elenco dei pass president che può essere o come in questo caso un elenco testuale direttamente sul sito oppure può essere un file allegato vedremo poi come allegare un file all'interno di un articolo c'è la parte del organigramma aggiornato vedremo poi come si può modificare anno dopo anno e poi c'è la parte dove è possibile caricare statuto e regolamento del club c'è poi la parte dedicata ai service qui c'è una spalletta mi sono dimenticata di commentare che contiene fondamentalmente le stesse informazioni che ci sono in un page questa spalletta invece voi non la potete modificare quindi se dovesse cambiare qualcosa ce lo dovete comunicare ce ne occupiamo noi qui i service con certe condizioni che vedremo dopo vengono pubblicati automaticamente la stessa cosa vale per le notizie anche qui e l'ultima pagina infine quella dei contatti ci sono c'è la segreteria le indirizzi email potete mettere i contatti che preferite dicevamo quindi allora la spalletta non la potete toccare tornando in un page in realtà sarebbe meglio che anche questa parte qua delle informazioni pratiche dove non la toccasse perché è una costruzione abbastanza complessa quindi piuttosto se cambia qualcosa tanto comunque oltre che essere cambiato qui deve essere cambiato anche nella spalletta di sinistra che abbiamo visto prima quindi comunque dobbiamo intervenire noi per modificare il sito e invece come abbiamo detto questa parte sotto viene alimentata automaticamente tutte le volte che si pubblica un nuovo articolo vediamo quindi il come si pubblica un nuovo articolo innanzitutto facciamo un po di conoscenza con la bacheca allora il vostro sito è stato realizzato in wordpress e la bacheca è il back end quello che si può chiamare anche back end ed è il posto in cui andare a operare quando si vuole cambiare invece qualcosa sul front end che è la parte del sito che abbiamo visto finora che è quella che vedono tutti i visitatori allora vedete che qua a sinistra ci sono delle voci di menu wordpress a differenza di jumla per quelli che avevano sito anche precedentemente con con noi e suddivide il contenuti tessuali li divide in articoli e pagine allora dove diciamo a grandi linee articolo è un contenuto dinamico quello che era stato immaginato originariamente per la parte blog che però adesso è molto molto di più di un semplice strumento per creare blog blog e invece le pagine sono per le per le informazioni quelle che non sono destinate a cambiare nel tempo vedete infatti che noi abbiamo costruito come come pagine il che cos'è la pagina che cos'è il rotary la pagina del club andiamo a vedere subito la pagina del club il rotary club pallanza strega allora per intervenire sul per fare delle modifiche su questa pagina andiamo per l'appunto su modifica allora vedete che qua abbiamo una parte sinistra che quella dove si va a scrivere inserire tutti gli altri contenuti e poi una parte destra che sono impostazioni che si possono fare scomparire o scomparire andando a cliccare su questa icona allora il wordpress da qualche tempo ha avuto un piccola rivoluzione l'editor che prima era molto simile a un normale editor come quello di microsoft word è diventato più più strutturato e funziona per blocchi infatti vedete che qua è possibile intervenire o su tutta la pagina o sui singoli blocchi allora vedete qui ogni per l'appunto blocco di contenuto è un blocco nel senso di wordpress se io ad esempio vado qui dentro vedete qua sotto c'è tutto il percorso quindi sembra un pezzettino di testi in realtà all'interno della pagina c'è un blocco blocco che si chiama accordion che è quello che permette di avere se noi adesso dopo un'altra finestra ecco qua così vi faccio vedere che cos'è questo accordion noi siamo qua stiamo modificando modifica pagina ruota di club accordion è questa struttura scusate in realtà eravamo sul club c'è il fatto che qui io posso far comparire o scomparire il contenuto all'interno quindi dicevamo abbiamo accordion e poi abbiamo un blocco che si chiama media e testo che è questo qui vedete questo qui blocco media e testo cambia tipo o stile del blocco ma in realtà non dovete fare non dovete cambiare tipo stile del blocco quello che magari potreste voler fare è andare a cambiare qualcosa nel testo ma lo potete fare molto semplicemente perché basta intervenire qui invece che a favore dei bambini e dei giovani dei bambini delle bambine e dei giovani per esempio e non basta fare così past president abbiamo detto qua c'è stato tutto un lungo elenco testuale se invece noi volessimo inserire un allegato come potremmo fare lo vediamo adesso che quando arriviamo alla parte saltiamo un attimo avanti rispetto all'organigramma e andiamo a vedere la parte statuto e regolamento immaginiamo di aver caricato qui lo statuto e di voler caricare adesso il regolamento allora qui c'è un altro ecco vedete qui voglio andare sotto e caricare il regolamento quindi posso aggiungere un blocco da questa da questo più qui e scegliere il tipo di blocco in questo caso io voglio un blocco di tipo file voglio caricare un file un allegato lo possiamo cari lo possiamo carica file allora posso selezionare un file trascinandolo sopra oppure seleziona mi aprirà la finestra di navigazione la libreria media è dove ci sono tutti i contenuti sia di tipo immagine sia di tipo file e immaginiamo di averlo già caricato lo seleziono ecco qua seleziono vedete che come predefinito wordpress da un'anteprima del documento cosa che può servire oppure no in questo caso la voglio disattivare e quindi posso anche modificarne le altezze in pixel farlo più piccolo ad esempio adesso poi ci vuole un po' da che si modifichi ma in realtà a me non interessa avere l'incorporamento quindi questo lo tolgo e poi posso dirgli se voglio che sia mostrato il pulsante download qui posso anche cambiare il testo mettendo scarica oppure no noi di solito mettiamo no quello che invece si può fare è dire di aprire il file in una nuova scheda a questo punto se sono sicura posso anche cambiare come ho fatto sopra statuto e regolamento del club cancelliamo questo perché lo evidenzio e poi lo cancello ecco qua ok cancello e elimino il blocco e a questo punto aggiorniamo e andiamo a vedere se la pagina è fondamentalmente uguale a prima perché io non ho fatto altro che ricaricare quello che già c'era sta tutto il regolamento del club perfetto ok fantastico allora quindi torniamo a modifica pagina adesso quello che volevo farvi vedere invece è come cambiare l'organigramma abbiamo visto che in realtà nessuno teneva traccia dei vecchi organigrammi sul sito quindi non abbiamo previsto la funzionalità di fare copia e incolla semplicemente questa è una tabella come fosse una tabella di Word infatti vedete blocco tabella e qua si va cercando appunto di fare proprio semplicemente di cancellare il nome presente e di andare ogni anno a mettere il nome che interessa quindi in questo caso era Marco Zacchera se per caso ne abbiamo previsto non tenesse più il grassetto per mettere il grassetto basta evidenziare le parole e qui scegliere B vedete che il grassetto è tornato quindi di anno in anno potete andare a cambiare i nomi se ci fosse anche da cambiare magari ci fosse da aggiungere qui voleste aggiungere la riga vicepresidente lo si può fare da qua modificata bella inserisci una riga dopo e qua si va a scrivere vicepresidente e qui pinco pallina anche qui lo metto in grassetto aggiorniamo visualizza pagina lo stesso discorso vale per le commissioni organigramma perfetto vicepresidente pinco pallina se per caso volessi aggiungere invece una colonna volessi innanzitutto eliminare una riga vado qui la seleziono e la elimino magari perché non serve più il cosegretario per esempio o se qui volessi inserire una colonna perché voglio mettere anche i membri delle commissioni lo posso fare sempre da qui inserisci una colonna prima inserisci una colonna dopo è molto simile a Word comunque nel caso e qui il prossimo anno si va in questo che è un blocco titolo H2 vedete è un blocco di tipo titolo si cambia qui anziché 21 e 22 si metterà 22 e 23 perfetto invece qua non andrei a modificare le opzioni che abbiamo dato all'accordo allora dicevo se qui ad esempio non volessi più avere i nomi scusate un po' di problemi con internet oggi se non volessi più avere i nomi in elenco ma volessi allegare ad esempio un pdf lo posso fare da qui nella sua fondazione oggi i nomi indicati in questo elenco punto e qui in questo elenco posso mettere un link no scusate non voglio mettere non voglio mettere un file e metto un file quindi posso anche digitare slash file come vedete qui non c'è bisogno di scegliere un blocco libreria media e qui ci sarà un pdf che avrò caricato che posso caricare in questo momento anche qui devo dire che non voglio un incorporamento e qui vado a cambiare se voglio il nome del file adesso vediamo le cose che ho fatto perché in realtà non ci servono ok adesso abbiamo visto tutto quello che si può fare sulla pagina del Rotary Club queste informazioni pratiche e news non sono da toccare invece quello che adesso voglio farvi vedere è come inserire una nuova notizia o un nuovo service allora a seconda dei casi le notizie sono uguali per tutti invece in alcuni club hanno deciso di avere ogni anno un articolo che si chiama service anno Rotariano 21-22 piuttosto che 22-23 eccetera eccetera e inserire lì tutti i service previsti per l'anno altri club invece vogliono avere un articolo previsto per ogni service la sostanza non cambia il sistema vale per entrambe le scelte dipende da quanto tempo magari avete da dedicare alla scrittura allora vedete che qui abbiamo il titolo dell'articolo l'autore che in questo caso sono io poi ci sarà l'autore del club e poi quelle che sono le categorie le categorie sono quella cosa che consentono a wordpress di sapere dove vanno fatti vedere gli articoli in questione ad esempio questo qua è categorizzato come anno Rotariano 21-22 e come notizie quindi se ad esempio qui vado in notizie vedete qua c'è tutto vabbè perché il sito è appena stato creato però io posso anche andare a cliccare anno Rotariano 21-22 e qui ho tutto quello che pertiene a quella non Rotariano sia notizie sia anche service e però non anni notariani precedenti o successivi quindi allora come faccio ad aggiungere un nuovo articolo faccio aggiungi nuovo scrivo un titolo un titolo che potrebbe essere notizia di prova e poi vado a scrivere o a copiare il testo che da un altro file di word lo copio direttamente da qua eccolo qui quindi copio vedete che se era formattato viene mantenuta la formattazione se voglio mettere un link lo posso fare qui e posso mettere un link interno ad esempio qui voglio mettere un link che ne so alla pagina delle notizie o posso mettere un link esterno ad esempio a Google Google.it e ho messo il link a Google qui non mi toccherei niente tornerei qua nelle impostazioni dell'articolo ecco qui vi faccio vedere una cosa è anche possibile cambiare la data di pubblicazione quella si riflette su dove viene pubblicato l'articolo quindi magari voglio pubblicare più articoli più notizie tutte insieme però voglio che una compaia prima di un'altra allora posso intervenire qui posso cambiare la data o posso cambiare l'ora possono anche essere stati pubblicati ad esempio 1, 2, 3 tutti il 13 aprile però magari mi rendo conto che ho pubblicato prima quello che volevo che comparisse per primo invece me lo fa comparire per ultimo perché compaiono in ordine anticronologico allora basta che vada a cambiare la data o magari anche semplicemente l'ora di pubblicazione questo non è molto facile da fare una cosa che poi devo fare come dicevo prima è assegnare le categorie in questo caso magari potrebbe essere anno rotariano 2020-2021 e questa abbiamo detto è una notizia se invece fosse un service metto service qui può anche succedere che sia voglia categorizzarlo sia come notizia sia come service allora spunto entrambe le caselle se voglio posso aggiungere una nuova categoria lo farei soltanto per un nuovo anno rotariano quindi lo farei qui anno rotariano 2022-2023 quindi voi non dovrete aggiungere altre categorie se non quelle dei nuovi anni rotariani perché in realtà le altre cioè se anche aggiungessi la categoria regali di Natale non ci sarebbe nessun posto nel sito che è stato predisposto per far vedere gli articoli che hanno la categoria regali di Natale quindi non serve a molto e le ultime due cose che vi devo dire sugli articoli è come trattare le immagini allora l'immagine che vedete qua ad esempio in home page queste immagini qua sono la cosiddetta immagine in evidenza quindi immagini in evidenza imposte immagini in evidenza posso averla già caricata oppure faccio come prima carica file, la trascino, la seleziono qui c'è scritto dimensione massima di caricamento file in realtà è un errore un giga sarà lo abbasseremo credo a 2 mega però tenete conto che sarebbe meglio che soprattutto i file immagine fossero 800k massimo 1 mega insomma più sono leggeri più il sito viene viene caricato rapidamente e quindi meno si corre il rischio che le persone si scoccino e lo abbandonino quindi stavamo dicendo selezioniamo un'immagine della libreria media imposta immagini in evidenza e automaticamente quando pubblico questa immagine verrà vista come negli altri casi tenete presente però che l'immagine in evidenza non è un'immagine inserita all'interno dell'articolo se io voglio inserire un'immagine all'interno dell'articolo devo usare il blocco immagine e fare la stessa cosa a questo punto poi posso scegliere se io vado qui e vado in blocco posso scegliere se l'immagine viene rappresentata a dimensione reale o magari media o magari dimensione reale però non proprio al 100% ma al 75% posso dire che voglio un allineamento a sinistra al centro a destra posso anche mettere un link posso ritagliare l'immagine che io consiglierei di caricare immagini già pronte per l'uso di non ritagliarle usando l'editor di wordpress perché è vero che c'è però non funziona bene ed ha dei problemi poi nel trattamento delle può dare dei problemi nel trattamento delle immagini quindi operate sulle immagini prima di caricarle sul sito a questo punto abbiamo inserito anche un'immagine se vogliamo abbiamo messo i link degli allegati eccetera posso pubblicare pubblica posso lasciare questa questa finestra che compare prima della pubblicazione sono le verifiche per pubblicazione oppure posso spuntare qui e non me lo non me le farà vedere più come preferite può essere utile lasciarle ecco qua visualizza articolo adesso lo visualizziamo vedete notizia di prova c'è l'immagine sotto se vado in home la dovrei vedere ecco qua notizia di prova vedete questo testo qua viene caricato automaticamente leggi tutto vado di nuovo su tutto il testo dell'articolo volevo a questo punto farvi vedere l'ultima cosa perché insomma abbiamo visto come si come si interviene sull'organigramma come si allegano dei file come si mettono dei link la stessa cosa si farà per la pagina contatti se avete bisogno di fare delle modifiche qui si può si può cambiare vi ho introdotto al mondo dei blocchi del nuovo editor di wordpress l'ultima cosa dicevo che potreste voler fare è intervenire sullo slider allora il plugin che abbiamo usato l'app che abbiamo usato per lo slider si chiama Serious Slider e in teoria potete andare a cambiare tutte le impostazioni ma vi sconsiglierei di farlo qui su manage sliders vi da la possibilità di crearne anche altri in realtà voi ne avete uno che si chiamerà home page e che non dovreste toccare ogni immagine è una slide quindi vedete infatti che qui abbiamo un'immagine per slide non è necessario dare un titolo a queste slide quindi se volessi aggiungerne una se voglio toglierne una basta che la che la cestini se voglio aggiungere una nuova molto molto semplicemente ne aggiungo una nuova non ho bisogno di dare un titolo devo soltanto selezionare lo slider e impostare l'immagine in evidenza infatti è l'immagine in evidenza quella che è l'immagine che viene visualizzata nello slider quindi pubblichiamo andiamo un page e adesso da qualche parte dovrebbe eccola lì compare l'immagine per quanto riguarda il formato delle immagini seguite le indicazioni che vi saranno comunicate per iscritto insieme alle credenziali per accedere al sito direi che vi ho detto tutto quello che era necessario sapere per poter intervenire sul vostro sito di club ma sapete che per qualsiasi cosa basta basta scriverci basta scrivere a noi di Scamotage e vi daremo una mano il prima possibile